Il 2014 è stato un anno di alti e bassi per lo sport nicosiano, di conferme, di novità, di delusioni e piacevoli sorprese. Abbiamo seguito quasi tutte le discipline sportive dal vivo, realizzando oltre 80 servizi video giornalistici. Nel calcio il 2014 ha visto in campo come unica realtà cittadina la vigneta, guidata in campo da Rosario Burrafato. L'esordio nel Gironi C del campionato di secondo categoria non è dei migliori. Tra alti e bassi la squadra giallu-blu non riuscirà a centrare gli obiettivi che si era preposta ad inizio stagione. In campionato con 33 punti all'attivo giunge al settimo posto a tre punti dalla zona play-off. Il bilancio totale è di 10 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte. Nonostante la non esaltante stagione, la vigneta di Nicosia cambia denominazione i colori sociali, arriva il nuovo nome Città di Nicosia ed i nuovi colori da giallu-blu diventano bianco-rossi, richiamando la vecchia tradizione calcistica nicosiana. Viene presentata anche la domanda di ripescaggio per accedere al campionato di prima categoria. A settembre riparte la stagione agonistica, ma tra sconfitte fuori casa e tra le mura amiche, la squadra nicosiana si ritrova nei bassi fondi della classifica. Solo dal mese di novembre la squadra sembra riacquistare nuova vitalità, soprattutto in casa dove riesce a ritornare imbattibile. Il doppio turno casalingo con le due vittorie consecutive permettono ai ragazzi di Burrafato di risalire la china e di chiudere l'anno in una posizione di classifica molto più tranquilla, al nono posto con 16 punti, frutto di cinque vittorie, un pareggio ed otto sconfitte e momentaneamente fuori dalla zona play-out. Il 2 giugno, organizzato dal Città di Nicosia, il primo Memorial Nino Panatteri, indimenticabile calciatore del Nicosia e della Leonfortese, e proprio le vecchie glorie delle due formazioni si sono affrontate in un derby d'altri tempi, tra commozione e goliardia nel ricordo di un grande campione prematuramente scomparso. La palla a volo è tra gli sport tradizionali nicosiani, tra i più seguiti ed amati. Il 2014 è senz'altro l'anno della NAF, la squadra femminile guidata in campo dalla sapiente mano di Andrea Angilello, per la prima volta nella sua storia vince il campione di Serie D ed ha prodo in Serie C. Una cavalcata entusiasmante, un testa a testa con la style post e la halus masca Lucia, che permette al team nicosiano di arrivare al secondo posto con 17 vittorie e solo tre sconfitte. La stagione 2014-2015 non inizia nel milione dei modi, una serie di infortuni e probabilmente un approccio mentale sbagliato con la nuova categoria fanno in modo che le naffine non riescano a mettere in campo la grinta e la forza che le ha contraddistinte nel campionato appena vinto. Una partenza rilento e di troppi infortuni fanno precipitare la naffa all'ultimo posto in classifica, con appena una vittoria e ben sei sconfitte sul totale dei sette incontri disputati nel campionato di Serie C. Tradizionalmente sono gli uomini del volley maschile ad ottenere i risultati maggiori. Vivo rimane nel ricordo di appassione delle imprese dei diavoli rossi, ma la realtà odierna è ben lontana da quei risultati. Il nicosia volley del presente campione, dopo aver acquistato il titolo sportivo di Serie C dal Gela, guidato in campo dal giocatore allenatore Ivan Pitone, non riescono a rinverdire i fasti di un tempo. Dopo un girone d'andata tra alti e bassi, nel girone di ritorno su 13 incontri, il nicosia volley riesce solo a vincere quattro volte e all'ultima giornata, ormai troppo tardi per recuperare, si trova di fronte alla capolista Papiro Volley, ottenendo l'ennesima sconfitta e la retrocessione in Serie D. Per fortuna ottiene ripescaggio nella medesima Serie. La stagione 2014-2015 si giocherà ancora una volta in Serie C. La nuova compagine sociale e il nuovo tecnico, il sergente di ferro Mimmo Tripi. Purtroppo, l'inizio di stagione sembra ripercorrere il finale di quella precedente. Troppe sconfitte ed il nicosia volley naviga nei bassi fondi della gradutoria. Ma il lavoro e l'impegno pagano e la squadra di Mr. Tripi, negli ultimi cinque incontri, riesce a vincere quattro volte riportandosi in una posizione tranquilla di classifica, a ridosso delle zone che contano. Nel badminton, la polisportiva Stefano Lamotta affronta per la mia volta il campionato di Serie C. Nonostante la buona volontà, la società del presidente Spalletta non riesce a vincere alcun incontro e retrocede in Serie D. Nella stagione 2014-2015 ottiene ripescaggio e la possibilità di rigiocare in Serie C. Ma nei primi due incontri ottiene altrettante sconfitte, seppur dimostrando coraggio e valore ed uscendo dal campo sempre a testa alta. La squadra del professore Spalletta è ancora alla ricerca della prima vittoria in questa categoria. Una nuova disciplina si affaccia nel panorama sportivo nicosiano, il basket. Da un torneo cittadino svolto presso la palestra dello Stefano Lamotta, nasce il Nicosia Basket, affiliato alla SD Città di Nicosia. La nuova realtà sportiva viene iscritta al campionato di prima divisione ed inserita nel girone ionico. Nei primi tre incontri, i campionati cististi bianco-rossi subiscono altrettante sconfitte. Le prime due in casa, presso la nuova struttura delle Twin Sport Village, l'ultima partita ad Acicastello. La poca esperienza e l'esordio nella nuova disciplina hanno giocato in modo negativo per i poco soddisfacenti risultati. Ma l'entusiasmo e l'impegno sono senz'altro un trampolino di lancio per fare in modo che anche la pallacanestro possa ottenere nel tempo i risultati che questo sport spettacolare merita. Il tennis club Nicosia continua la sua stagione a squadre nel torneo invernale. In Serie C le ragazze alternano vittorie e sconfitte, mentre i ragazzi in Serie D riescono a vincere il campionato interprovinciale e sono in attesa del sorteggio del campionato regionale. Da quest'anno non si gioca più nei campi del Parco Robinson, ma la società del presidente Servillo gioca i suoi incontri nella nuova struttura del Twins Sport Village. Il 20 luglio si è svolta la seconda edizione della Gran Fondo Valdemone di ciclismo, quinta prova del campionato regionale Axi di ciclismo. Ha visto la partecipazione di quasi 100 iscritti che dovevano compiere un percorso di 131 km. La corsa ha visto prevalere il catanese Francesco Pizzo. Sesto il nicosiano Gino Criscì. Nonostante il gran caldo, la manifestazione ha avuto un buon successo. Il 9 agosto si è svolta la terza edizione di Corri con l'Assunta. Decine di atleti provenienti da ogni parte d'Italia di tutta l'età hanno corso lungo le vie dello storico quartiere di Santa Maria Maggiore. Organizzato dal Tallin Club del professor Lino Buzzone, nella gara maggiore di 6 km ha visto la vittoria del mazzarinese Ragusa che ha prevalso sul nicosiano Enzo Coppia, vincitore delle precedenti due edizioni. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS